Nata Merlin, da una famiglia borghese, crebbe a Monteverde Vecchio, quartiere storico di Roma insieme ai suoi quattro fratelli. Dunque iniziò a studiare alla scuola di recitazione della Contessa Serra, partecipando agli spettacoli del Teatro dei Fanciulli, oggi chiamato Flaiano, presso Borgo Pigna. Ben presto però, dopo l'abbandono del padre del tetto coniugale, La Giovane Marisa, per supplire alle esigenze economiche, dovette interrompere gli studi e lavorare a tempo pieno presso un emporio di profumi. Qui venne notata da Mariuccia Giuliano, moglie dell'attore Macario, che in quel periodo stava reclutando delle subrette per la sua rivista. La Giovane Marisa quindi, esordì nel 1941 al Teatro Valle. Per la sua prorompente bellezza, fu anche scelta come modella dal settimanale mondano Signorina Grandi Firme. In piena guerra, Marisa continuò la carriera nel teatro di rivista. Nel 1943 fu chiamata dal grande Totò per lo spettacolo che ti sei messo in testa. Dove divenne grande amica di Anna Magnani. Ma già l'anno prima aveva esordito sul grande schermo recitando una piccola parte in stasera. Niente di nuovo, di Mario Mattoli. Seguirono quindi altre parti, ma fu soprattutto dal 1949 che la sua attività si intensificò, imponendosi come una delle migliori attrici caratteriste dell'epoca. Nella sua lunga carriera interpretò più di 160 pellicole, sia cinematografiche che televisive, non dimenticando però il palcoscenico. Attrice eccellente nelle parti brillanti. Diventò, ad esempio, una levatrice nubile che conquista il cuore del maresciallo carotenuto. Interpretato da Vittorio De Sica in Pane, Amore e Fantasia, 1953, e nel suo seguito Pane, Amore e Gelosia, 1954, entrambi diretti da Luigi Comencini. Quindi la compagna di Alberto Sordini e il vigile. 1960, diretto da Luigi Zampa, è un'allegra prostituta in dramma della gelosia. 1970, diretto da Ettore Scola. Altri ruoli più impegnativi saranno quelli della turista malinconica in Tempo di villeggiatura, 1956, diretto da Antonio Raccioppi, con cui vinse il nastro d'argento nel 1957 come miglior attrice non protagonista. Nel 1992 collaborò col cantante Amedeo Minghi nell'ultimo brano dell'album I ricordi del cuore. Intitolato Roma, come voce narrante introduttiva, la sua ultima apparizione sul grande schermo avvenne nella seconda notte di nozze. 2005, diretto da Pupi Avati, mentre la sua ultima interpretazione sul piccolo schermo fu nella miniserie televisiva in due puntate La Buona Battaglia La mia donna Pietro Pappagallo diretta nel 2006 da Gianfranco Albano, si spense nella sua casa romana vicino a Piazza Vescovio. All'età di 84 anni, i funerali si svolsero quattro giorni dopo, in forma semplice e privata, presso la Chiesa degli Artisti.